Allora, diceva bene Virginia, hanno paura, hanno paura, qualcuno forse avrà letto l'articolo sul Fatto Quotidiano in pagina 2 di qualche giorno fa, il PD romano ha commissionato un sondaggio segreto per vedere come stava messo il PD romano a Roma, ebbene i risultati sorprendenti, il Movimento 5 Stelle, primo partito a Roma, 30, 27 del PD, gli è preso un colpo, l'hanno nascosto, non troppo bene perché qualche giornalista bravo, perché ci sono giornalisti bravi, l'ha trovato, l'ha pubblicato e lo ha detto. Sono terrorizzati, giustamente, sono terrorizzati però come diceva bene Virginia, non hanno vergogna perché sono ormai 30, 32 giorni che non lavorano, non vengono in consiglio, siamo praticamente gli unici, sempre presenti. Bene, sono stato presentato come presidente di commissione spending review, quindi revisione della spesa, dovrebbe essere qualcosa di serio, anche se in realtà poi Marino, Nieri, gli assessori non ci invitano negli incontri dove si decidono i tagli, ebbene col nostro lavoro stiamo facendo risparmiare l'amministrazione, quindi a tutti noi centinaia di milioni di euro, non sono chiacchiere, non sono slogan, abbiamo i documenti e non solo, abbiamo fatto anche ormai un abbonamento alla Corte dei Conti, perché ormai ogni volta che scopriamo qualche amministratore che ha regalato un po' troppo i soldi, li andiamo a denunciare. Vi faccio qualche esempio, vi aggiorno sugli esempi che porto in questi incontri pubblici. Verano, cimitero monumentale del Verano, 36 milioni all'anno spendiamo per pulirlo, solo che abbiamo scoperto che non lo pulisce nessuno, abbiamo fatto le fotografie, abbiamo fatto una commissione, abbiamo fatto delle denunce, ebbene abbiamo costretto l'amministrazione ad andare lì, a rivedere il contratto e dal prossimo anno, dal prossimo contratto, risparmieremo decine di milioni di euro e faremo pulire uno dei cimiteri più belli al mondo. E a Roma abbiamo 11 cimiteri. Altro aggiornamento sulla nuvola di Fuxas, visto che sta qua vicino, continua lo scambio tra noi e il grandissimo architetto che prende solo 20 milioni di euro per quest'opera. Interessante che le autorità sono intervenute adesso, hanno detto no, è uno scandalo quest'opera, troppe varianti, è costata troppo, l'architetto è stato pagato troppo con i soldi nostri, ebbene hanno utilizzato le stesse nostre parole di 45 giorni fa. Quindi l'autorità vigilante ha fatto un copia e incolla del nostro comunicato e dopo appena 15 anni si accorta che qualcosa non va in questo progetto da 400 milioni di euro, che non è finito e purtroppo, mi dispiace dirlo, non finirà mai. Altro aggiornamento, abbiamo denunciato alcuni dirigenti dell'AMA, abbiamo pubblicato i loro nomi e cognomi e curriculum, perché non avevano curriculum, ma sono stati assunti così a 100 mila euro l'anno. Ecco la novità dopo le nostre denunce è stata che l'AMA, così anche come l'ATA e altre aziende, hanno iniziato a fare dei licenziamenti, licenziamenti di dirigenti che non sarebbero dovuti mai essere assunti e che paghiamo noi, parliamo di centinaia di milioni di euro l'anno. La settimana scorsa abbiamo fatto un blitz a Capannelle, l'ippodromo di Capannelle, 173 ettari, il più grande d'Europa, noi lo regaliamo a 5 mila euro al mese, è di tutti quanti noi, è di Roma capitale, abbiamo fatto un blitz e non ci volevano fare entrare dentro, quando siamo andati alla sbarra, non ci volevano fare entrare perché era di proprietà del comune e quindi naturalmente noi cittadini non possiamo entrare. Abbiamo scoperto anche delle cose interessanti che nell'ippodromo qualche dirigente ci ha fatto anche la casa, prima era una roulotte, poi una scuderia e poi una bellissima villa, è incredibile, sono bravissimi e noi comune siamo bravissimi a chiudere un occhio per 10, 20, 30 anni e a regalare questo impianto. Ebbene qualcosa è cambiato perché anche qui ho chiesto un incontro al sindaco che me l'ha concesso in un giorno comodissimo, il 25 aprile, lì in Campidoglio, per parlare di Capanelle. E effettivamente però qualcosa è servito perché dopo una settimana l'assessore ha cambiato completamente idea e ha detto che i rapporti con questa società che gestisce l'ippodromo stanno per terminare o devono essere profondamente rivisti. Quindi un altro successo e ne abbiamo veramente decine. Io vi invito sempre a seguire i nostri lavori su Roma5stelle.it e concludo brevemente con un appello sulla partecipazione. Partecipazione, prima mi dicevano ma io non so andare su internet, non sono bravo con il computer, non importa, venite alle commissioni, venite a sentire cosa dicono, non c'è bisogno di essere né esperti né altro, basta vedere consiglieri che arrivano per due minuti per prendere 140 euro e scappare, basta vedere cosa dicono, magari c'è gente che è completamente analfabeta, sono consiglieri che ci dovrebbero rappresentare, venite al consiglio, così tutto quello che vi abbiamo raccontato lo potete vedere. Partecipazione e anche perché no, imparare un po' il computer, abbiamo scoperto e qua l'informazione è importantissima, per esempio dietro questa chiesa c'è una scuola, è una scuola statale, non è privata, è statale, l'istituto tecnico-industriale statale Armellini fa un bellissimo corso serale di informatica, il 90% della popolazione di questo municipio non lo conosce nemmeno, facciamo circolare queste informazioni che sono utili. Penultimo appello sulla partecipazione, il voto è importantissimo, noi nella circoscrizione centrale abbiamo 14 ottimi candidati, andate a vedervi i curriculum, le loro storie, cosa hanno fatto in concreto dal 2005 fino a oggi, rimarrete veramente stupefatti, quindi votare è importantissimo, mettere le preferenze importantissime, mi raccomando tre ma non tutte dello stesso sesso. Ultimo appello, chi avete da fare per venerdì prossimo per il 23? Mi raccomando, mi raccomando dobbiamo rifare la stessa cosa che abbiamo fatto nel precedente Tsunami, tutti a San Giovanni il 23, il doppio, il doppio su un milione e 26, voglio essere ottimista, il doppio e quindi partecipare, partecipare, partecipare e mi raccomando ci vediamo venerdì prossimo e vinciamo!